Ciao a tutte ragazze, allora adesso io volevo farvi vedere, siccome un po' di tempo fa ho pubblicato su Instagram una foto chi mi segue su Instagram, sotto lascio poi il link, avrà già visto, non so se adesso riuscite a vederla tramite la fotocamera dove praticamente avevo pubblicato le foto del mio bagno, avevo intitolato My Bedroom and Makeup, cioè il mio bagno e il mio make up io ho ricavato nel mio bagno, ho diversi bagni, ho diversi bagni, però diciamo che ho un bagnettino, me lo sono preso tutto per me e l'ho sistemato tutto come volevo io, è piccolo e ci ho messo tutti tutti i trucchi, praticamente io li posso stare anche ora a truccarmi non mi disturba nessuno e l'ho sistemato proprio a mio piacimento, quindi è sia un bagno che una postazione make up e visto che è piaciuto molto, tanti mi hanno chiesto anche di farci un video, io allora ho deciso di farvi vedere con un video come è sistemato io spero che vi piaccia e vi lascio al video, un bacione! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.